secondo me senza ombra di dubbio oltre il bontù di pomone che stasera non è che aveva preso anche lui insieme il buon John Ritronza buonasera 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 allora direi che allora intanto una missione dell'onore al buon John Ritronza che prima volta che lo sentiamo in cabina di regia e che abbiamo l'onore di intervistarlo perché è un grandissimo pilota vuoi dire qualcosa riguardo al mondo del kart tuo? sì sto facendo il kart nella 60 mini ho iniziato due anni fa con la 60 stavo facendo un buon campionato ho vinto la mia prima gara in 60 l'anno scorso ho appena entrato in campionato mi sono divertito molto però più che altro mi piacciono tantissimo i kart quindi mi piacciono troppo beh immagino comunque signori è un grandissimo pilota ci sono anche qualche suoi video in giro sul web se volete spopolare puoi anche dire il tuo sito se volete anche andare a fare un salto puoi benissimo dirlo qui sì ho un sito e un canale youtube vi invito ad andare a visitare il mio sito che è www.giorritronza.com trovate tutte le cose che faccio ci sono il canale youtube il canale twitch c'è tutto ci c'è anche anche un calendario che deve essere aggiornato per quanto riguarda gli eventi in cui vi va a partecipare comunque tutte quante informazioni che vi sto dicendo le trovate anche qui sul nostro server discord potete chiederlo anche a lui direttamente per quanto riguarda la gara intanto ti fanno i complimenti anche qui della chat hai fatto davvero una grandissima gara peccato per la strategia hai provato una strategia a due soste a tre stint a differenza degli altri che hanno fatto invece una sosta e due stint solo invece ti ha mi ha sì mi ha fregato molto la la doppia sosta perché non riuscivo non riuscivate nella macchina dai dieci giri in poi quindi sono rimasto fregato ho dovuto fare una doppia forse avevi un setup forse troppo carico che andava o comunque fosse una convergenza leggermente sbagliato pressioni che andavano a consumarti molto velocemente le le gomme infatti gli altri hanno fatto tranquillamente 15 15 15 16 16 15 adesso siamo lì poi c'è chi ha fatto la sosta sotto regime di safety car e però per quanto riguarda il resto hai davvero combattuto in modo egregio con piloti del calibro anche lo yellow si è andato a riprenderlo hai fatto lì è l'ultimo e hai fatto una staccatona lì lungo e l'amiral ed è davvero è davvero fatto dopo la bella ripartenza l'hai davvero provata tutta ma anche durante gara hai fatto davvero hai rispettato chi ti insegue ma anche hai fatto anche dimostrato che con un po' di esperienza in più perché comunque sei giovane ricordiamolo è molto giovane è riuscito davvero a fare dei bellissimi dei bellissimi sorpassi come abbiamo anche ripetuto qui in live perché chiunque voglia rivedersela anche se verrà caricato su nostro canale youtube più avanti tra un paio di giorni per cui ti è piaciuta questa gara insomma qui in francia sì mi è piaciuta molto anche se non mi piaceva la pista l'audiavo l'ho sempre odiata però quando ho visto che avevo un buon passo mi è venuta ho capito che ero che ero veloce quindi ho iniziato a allenarmi molto e ho scalato la classifica poi ho iniziato a perdere e sono arrivato in gara ho iniziato a perdere e ho fatto male le qualifiche ottavo poi in gara sono partito benissimo ho cercato di evitare tutti i contatti gli altri che si sbattevano fuori tra di loro quindi sono riuscito a recuperare un po' quando ho visto la seconda posizione mi sono meravigliato era la prima volta in quella posizione poi peccato che ho sbagliato le soste con i pit stop o le strategie da dare vedere vabbè comunque esatto strategia a parte buona gara quando avevi diciamo il passo o comunque quando l'ho ritrovati dopo diciamo ave l'ho perso che dire io ti ringrazio ancora di averti qua adesso ti aspettano due gp perché adesso abbiamo tre settimane di fila adesso abbiamo altre due di fila al red bull ring gp di stiga e gp d'aostia anche se alla fine il circuito lo stesso di illuminazione delle gp diverse quali aspetti dall'austria mi aspetto un buon risultato visto che ci ho già corso due volte una volta sempre con formula 3 è una pista che mi piace molto quindi mi aspetto un buon risultato allora dai vediamo se la pista del toro ti porterà fortuna intanto ti ringrazio e complimenti ancora per questa serata grazie anche a voi mi sono divertito anche molto ciao buona serata ciao ciao grazie a tutti